Sono Emelda De Maria, sono l'assessore all'istruzione e alla cultura del comune di Briccherasio, che è un comune in Valpellice. Il comune di Briccherasio è stato contattato dal sindaco di Ostana e ci è stata prospettata questa possibilità. Noi conoscevamo già questa iniziativa, ne avevamo sentito parlare sui media e quindi siamo stati molto contenti di poter aderire e di essere tra i comuni partecipanti. Amocumentary per noi è partire dal territorio, improvvisare il territorio, modificare il territorio e presentare un territorio nuovo a un pubblico nuovo. Da questa esperienza il comune di Briccherasio si aspetta tutto il bene possibile. Noi siamo aperti a ogni nuova iniziativa, è un'esperienza nuova, stimolante, che ci auguriamo possa coinvolgere il nostro territorio, i nostri cittadini e mi auguro che il territorio possa essere valorizzato al meglio e che si possa valorizzare la nostra storia e la nostra peculiarità.